Fiat Elexio è un progetto che ha coinvolto otto università italiane, tra cui il Politecnico di Torino e la LUIS di Roma come prime due protagoniste. Si tratta di un progetto di car sharing gratuito per gli studenti, totalmente gratuito. Sostanzialmente gli studenti potevano prenotarsi tramite internet e scegliere tra quattro vetture a disposizione, due Panda e due 500L. Tra tutti gli studenti della LUIS di Roma e del Politecnico di Torino è stato indetto un concorso per premiare il guidatore più ecosostenibile. Scopriamo chi è! Ciao Giovanni, cosa sei? Volevo darti le chiavi della tua macchina che hai a disposizione per un mese. Perfetto. Quindi goditi il viaggio e goditi il concerto di MTV a Milano. Ok? Buon viaggio! Ciao, ciao! Pronto! Ciao Salvo! Ciao Giovanni, e allora? L'ho preso, l'ho preso! Ciao Salvo! Ciao! 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 Tutto bene? Ciao! Volevo arrivare? Dopo! Ma una sosta a caffè? Ci sta! Gio, alla fine come hai fatto a vincere questa macchina? C'era un concorso al Politecnico. Davano la macchina in car sharing gratuito e registravano lo stile di guida. Abbiamo il sistema EcoDrive. Quanto più ecosostenibile, tanti più punti sociali. Poi hanno fatto una gran notoria e sono arrivato primo. Primo? Primo! Buongiorno! 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 Grazie a tutti.